Fine settimana ricco di eventi tra venerdì 21 e domenica 23 settembre per il sostegno della candidatura a riserva di Biosfera Unesco del Monte Grappa. La rassegna è iniziata venerdì 21 settembre presso la fornace di Asolo con un convegno al quale hanno partecipato comuni, unioni montane e associazioni di categoria coinvolti nel progetto. Tra sabato e domenica si sono svolte varie manifestazioni, cerimoni ai caduti, letture da parte degli studenti del liceo Canova di Treviso, presentazione dell'app Uomini Interlicea, a cura degli studenti del liceo Da Vinci ed escursioni intorno a Cima Grappa. Il percorso verso la candidatura a riserva di Biosfera Unesco è quindi ufficialmente iniziato. IPA, Terre di Asolo e Monte Grappa proporrà a breve altre iniziative. La candidatura, ha spiegato il presidente Valentina Fietta, punta a riconoscere e valorizzare le potenzialità di un luogo, del suo capitale futuro, mettendo a sistema natura e uomo per un turismo sostenibile e di valore, lontano dalle logiche mordi e fuggi.